In un articolo del Corriere della Sera, Federico Fubini ha analizzato il boom che nell'ultimo biennio in Italia ha riguardato gli assegni di invalidità. In alcuni casi, in alcune zone d'Italia, le pensioni di invalidità civile rappresentano una vera e propria fonte di reddito, tanto da interessare fasce consistenti della popolazione, con percentuali da record. Stando ai numeri dell'Inps, emerge innanzitutto, e andando oltre facilissime speculazioni che negli anni sono state ampiamente cavalcate, che il trend è italiano, non meridionale, settentrionale, centrale o insulare, ma italiano. Tant'è che al top c'è Oristano, dove, fra indennità e pensioni degli invalidi civili, se ne contano oggi un numero pari al 9% dei residenti, segue Lecce con l'8%, sono Astronomiche Cosenza, prestazioni pari al 7,4% dei residenti, Messina 7,68% o Reggio Calabria 7,69%. Ma anche città del nord, come Sondrio o Pavia, rivelano una dipendenza da questi assegni. Quanto alla Campania e alle aree interne in particolare, le percentuali non sono da capogiro. Benevento ha visto aumentare le pensioni di invalidità da 6.230 a 6.376 tra 2014 e 2015, fonte Inps. Così come sono aumentati anche gli assegni di indennità di accompagnamento da 13.679 del 2014 a 13.903, una percentuale, dunque, vicina al 7% della popolazione totale. Discorso simile per Avellino. Qui, le pensioni di invalidità sono cresciute in maniera più contenuta tra un anno e l'altro, da 8.808 a 8.873, mentre l'aumento delle indennità è aumentato da 17.558 a 17.782. In Irpinia, tra pensioni e indennità, quasi il 6% della popolazione percepisce un trattamento. In Irpinia, tra pensioni e indennità, quasi il 5% della popolazione a 7.882. In Irpinia, tra pensioni e condividi. In Irpinia, tra pensioni e indennità, quasi il 6% della popolazione a 14.658 a 18.873. Grazie a tutti.